Congratulazioni a mamma Valentina Maculan e al papà Luca Pigato, neogenitori della nuova venuta al mondo, Olivia. Il Fiocco Rosa, già preparato per il lieto evento, è a posto da stamattina all'uscio di casa della sindaca di Carrè, ricevendo subito le prime felicitazioni dei propri concittadini e dei colleghi di giunta comunale. Oltre a quelli giunti in privato, sono parecchi quelli che vengono espressi sotto forma di post sui social network, dopo che la notizia della nascita del bebè e il fresco benvenuto alla piccola sono stati resi noti dai canali informativi del comune Carrè e Informa. Si tratta della primogenita della coppia con la sindaca Maculan rimasta al lavoro nel suo ufficio fino a pochi giorni fa, in dolce attesa, posando di recente insieme ad un'altra futura mamma in occasione del conferimento di una cittadinanza italiana. Una nuova mamma amministratrice entra nel novero delle donne che sanno dare esempio concreto di conciliazione tra maternità, ruoli pubblici, impegni professionali, ovviamente nel caso specifico con l'aiuto del papà.